Avvicinare i giovani al carnevale e valorizzare il ruolo dei carri allegorici sono solo alcuni degli obiettivi del comitato pacassoni avanti coi carri a distanza di poche settimane dalla conferenza stampa in cui si sono presentati alla città i componenti iniziano a mettere in campo i dei progetti per rilanciare la tradizione e la creatività della manifestazione più antica e importante della città il carnevale di Fano. Riportare soprattutto i giovani io ricordo che da ragazzini noi andavamo al carnevale ci si metteva in cerchio si prendeva le caramelle quindi era molto frequentato dai giovani adesso è molto meno frequentato non so mio figlio ultimamente mi dice mamma io non ci vengo al carnevale a noi non ci interessa e ha 18 anni perché non gli interessa questa è una domanda che secondo me ci dobbiamo porre quindi eventi per i giovani feste concerti magari una collaborazione con la Romagna è vero si sono molto si sono molto ampliate le tessere e onore a chi lo ha fatto 1700 tessere sono tante rispetto al passato però siamo 60.000 abitanti e 1700 su 60.000 è niente perché anche questa è una domanda che secondo noi ci dobbiamo porre. Un altro punto fondamentale per il comitato è quello di riportare i carristi al centro dell'evento tenendo in considerazione l'alto indice di gradimento manifestato dalla gente ed emerso da un'indagine promossa dall'ente carnevalesca. Inoltre per informare la cittadinanza sui progetti e raccogliere suggerimenti e adesioni il comitato sarà presente lungo corso Matteotti anche sabato 7 maggio. Il carnevale non è della carnevalesca non è dei carristi è della città quindi non vogliamo proporre un carnevale preconfezionato quindi no di qualcuno ma un carnevale dove tutti i cittadini di Fano appunto riaffezionandoli possono partecipare con il loro contributo con la loro esperienza. Quindi non ci sono lotte non ci sono poltrone ma c'è la volontà nostra di insieme lavorare per far crescere una manifestazione che può diventare veramente un volano importante per Fano dato che io riguardavo le prime partecipazioni della mia famiglia Rina cioè risalgono proprio al dopoguerra il primo carro che mio babbo ha fatto nel 1945-46 quindi veramente c'è una storia ci sono le vite delle persone quindi è questo che vogliamo.